Dieci anni di emozioni, eventi e grandi occasioni. Dieci anni vicino alle famiglie e al nostro territorio. È il Centro Le Grange, da dieci anni il tuo punto di riferimento. Siamo cresciuti insieme ai nostri negozi e insieme ai nostri visitatori. Grazie a tutti voi, ogni giorno continuiamo a offrire il meglio per lo shopping e per la spesa. Centro Commerciale Le Grange, Piedimonte San Germano, aperto tutti i giorni, domeniche comprese. Sabato 23 e domenica 24 arriva Verde Fiera, la grande festa dei fiori con tante idee per il tuo giardino. Da dieci anni, shopping con più emozioni.